Anche i più piccoli saranno protagonisti del mercato del lobbista. Assessore, in che modo verranno coinvolti? Sì, le nostre idee è quella appunto in occasione del mercato del lobbista di ripopolare la piazza. Quindi immaginare di coinvolgere anche i più piccini nel mercato, nel mercatino, e scambiando giochi, scambiando anche cose realizzate dagli stessi, figurine e quant'altro, perché diciamo abbiamo scoperto, e questo probabilmente è un fatto anche noto, che chiaramente piace molto questo tipo di attività. E lo facciamo in piazza, piazza 20 settembre, dalle 9 della mattina fino alle ore 13. è consentito chiaramente occupare, tra virgolette, la piazza con uno spazio che si aggira intorno ai 3 metri, quindi uno spazio utile e necessario per poter esporre la propria mercanzia, diciamo così, con la supervisione sempre di un adulto, e quindi fare questa attività di scambio, di giochi propri, come dicevo prima, cose dagli stessi realizzati, e anche di piccole vendite, quindi con un tetto massimo, ovviamente. Uno scambio che avverrà soltanto tra i bambini, quindi bambini e bambine, che dà la fascia dai 6 ai 13 anni, quindi coinvolge sostanzialmente anche i ragazzini, delle scuole medie, esclusivamente tra loro, e appunto per quello che riguardano, appunto giochi e cose realizzate dagli stessi e non altro tipo di materiale. Questa iniziativa nasce, diciamo, fino ad oggi, era stato immaginato il mercatino dei bambini e delle bambine all'interno della fiera di San Bartolomeo nel mese di agosto, e quindi con uno spazio a loro dedicati nella senso struttura in Sassonia. Proprio da lì è nata invece l'idea di dedicare proprio per loro un momento, e quindi nel centro città, e quindi lo facciamo in qualche modo in via sperimentale. L'idea è di farlo anche un altro evento in primavera, ma laddove ci fosse la necessità, la richiesta e quindi la voglia e la volontà di riproporre questo tipo di iniziativa, siamo ben lieti di immaginarlo anche in altre domeniche. È anche un modo per socializzare, per coinvolgere le famiglie, e quindi insieme per passare una domenica mattina in piazza.